Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, tutto e basta, ognuno vale male, 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 caso di dire quindi non più opacità ma trasparenza, non più disgregazione ma aggregazione, ecco quindi che la questione morale, la questione etica diventa un punto forte per il nostro partito, arrivo adesso al settimo e ultimo punto cardine del nostro programma, signori elettori ma sto fiume vi piace o non vi piace? Ci serve o non ci serve? Perché se ci serve allora io lo voglio vivere, lo voglio navigare, ci voglio pure fare bagno al limite, ma se non ci serve, e io dico che non ci serve signori, non ci serve, levamolo, sotteramolo, prosciugamolo, seguitemi bene in questa mia straordinaria intuizione, al posto del fiume una lunga lingua d'asfalto a tre corsie, Los Angeles, risultato due punti virgolette, traffico azzerato, inquinamento disintegrato, guarda a destra, vedo verde, guarda a sinistra, arrivedo verde, guardi in alto, si scende quell'imbecille, non si mettono a affidare lo stanzino, c'è un massacrato di torno, gli date pure la carta, senza vita, lo scienziato, e te lo resta in chiacchierà, senza vita, senza vita, senza vita, no siete voi che venite a fare, a marionetta, a marionetta, senza vita, hai capito? Ci ammassa grazie il quartiere, ok, io ci ammassa i conti, allora partiamo da casa! Grazie a tutti! Grazie a tutti!